Il Presidente Amalto, che è stato uno splendido Ministro del Tesoro, che è stato il Presidente del Consiglio, e si comincia a fare tutto l'eserco, si comincia il Presidente del Consiglio, quindi è... Questa è una profezia, ma quale profezia? Auguri a voi ragazzi, auguri a voi. Ciutti le larghe in tese, attenzione, attenzione. Se avete il primo partito, scusate, vediamo se riusciamo a annunciarvi.